Siamo usciti dal generico che la Sicilia sia un'isola non lo può disconoscere nessuno che ha dominato fino al rapporto con lo Stato centrale dicendo ma siamo pure un'isola, abbiamo dei costi ulteriori ci dovete compensare di questi costi perché sono un costo occulto per ogni cittadino siamo passati da questa fase a quella invece della quantificazione come anche la Corte Costituzionale richiede quando dice che nelle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni si deve tenere conto del costo della insularità. Bene, adesso ci sederemo a Roma con i numeri, numeri ponderati, analizzati da uno studio corposo che dimostra che circa 6 miliardi e mezzo di euro l'anno vengono versati dai cittadini siciliani per compensare la loro condizione di insularità, vuoi per i trasporti, vuoi per la sanità, per gli studi soprattutto per le imprese in termini di minore competitività o di costi maggiori di allocazione dei prodotti sui mercati quindi un peso assai significativo che va certamente calcolato e che lo Stato non può ignorare nel riconoscere la condizione di insularità della Sicilia. Vi do un dato, questo 6,5 miliardi di euro corrisponde a una cifra superiore all'abbattimento del prodotto interno d'ordo della Sicilia a causa del Covid quindi pensate, è come se ogni anno avessimo avuto una pandemia Covid e i suoi effetti economici sull'economia siciliana negli ultimi vent'anni. Lo Stato non può non compensare tutto questo, non può non riconoscere tutto questo e oggi il governo musumesci potrà farlo al tavolo del governo nazionale con dati concreti, puntuali e scientificamente provati.